Noi assistiamo alla rivolta in Iran e diciamo eccoci, ci hanno messo questi 25 secoli, ma gli iraniani vogliono vivere esattamente come noi. Ma siamo così sicuri che il resto dell'umanità voglia vivere esattamente così e che ci sia una sorta di mano superiore che impedisce al resto dell'umanità di vivere come noi? Noi abbiamo la sensazione di essere il fine ultimo dell'evoluzione. È molto più soddisfacente dire che il mondo non aspetta altro che vivere come noi. Questo tipo di approccio è sbagliato. Le dittature, anche la più oscena, e quella iraniana lo è molto, necessitano di consenso. E com'è possibile che una popolazione di questo tenore, che sta al mondo da sempre, non si renda conto dello stato in cui vive? Ma la dittatura iraniana è composta sempre di iraniani. Perché l'Iran è un enigma, però proveremo a spiegare perché è un enigma, di che cosa parliamo davvero, e a che punto è quella che sembrava una rivolta capace di rovesciare il regime degli Ayatollah. Con un piccolo abbonamento mensile non solo aiuterai la nostra missione, ma vivrai rinascimento culturale come mai prima d'ora. Avrai accesso esclusivo a conferenze inedite, interviste e contenuti che non sono ancora stati rilasciati al pubblico. Abbonati ora! I video extra già ti aspettano! Proviamo anzitutto a stabilire con che sguardo dobbiamo guardare all'Iran, che bestia è, che soggetto è, che appigli possiamo avere, cioè quali sono gli strumenti per capire il contesto, e poi vedere lo stato dell'arte, di questa stramba, se non fosse anche tragica, teocrazia, e che futuro può avere. Anzitutto partiamo dalla, come dire, dalla concezione di metodo. Siamo tutti occidentali, però noi occidentali tendiamo a guardare il resto del mondo con un piglio solipsistico, cioè crediamo tutto sommato che il resto del mondo sia o uguale a noi, e quindi noi tendenzialmente parliamo sempre a nome del resto dell'umanità, o se già non è uguale a noi, tutto sommato, sogna di diventarlo. Prima o poi ci arriverà. In questo nostro pregiudizio, involontariamente, ma a volte anche volontariamente razzista, c'è il nostro classico sguardo sul pianeta, sugli altri popoli, anche su una civiltà antichissima, esattamente antica come la nostra, se non più antica, l'Iran è al mondo da 25 secoli, la Persia esiste da 25 secoli, anche davanti ad una civiltà così antica e tanto sofisticata applichiamo le medesime categorie, che vuol dire in termini più mangiabili, più diretti, che noi assistiamo alla rivolta in Iran, senza nasconderci dietro un dito, da qui diciamo, visto che siamo davanti ad un regime dittatoriale, questo è noi, lo è per certo, teocratico, e come liberticida potremmo continuare, noi vediamo la rivolta e diciamo eccoci, ci hanno messo questi 25 secoli, ma gli iraniani vogliono vivere esattamente come noi. Quindi, soprattutto le donne iraniane, che sono state l'amiccia eroica di questa rivolta, pretendono, non solo pari diritti, e ci mancherebbe altro, ma vogliono vivere proprio esattamente come noi. Noi non lo diciamo a volte neppure, perché lo diamo proprio per scontato. E a questo aggiungiamo un corollario, se non fosse per questo regime, che è iraniano, come se fosse un dettaglio, se non fosse per questo regime, viverebbero già come noi. Quindi, essenzialmente, di che cosa si occuperebbero? Di economia, la sera a casa, a vedere le serie televisive prodotte negli Stati Uniti, quasi tutte, e a sognare il weekend. Ma siamo così sicuri che il resto dell'umanità voglia vivere esattamente così, e che ci sia una sorta di mano superiore che impedisce al resto dell'umanità di vivere come noi. Noi abbiamo la sensazione di essere il fine ultimo dell'evoluzione. Che questo, ad alta voce, così non lo diremo, a me che ci va in pressione. Però nell'atteggiamento lo dimostriamo. Cioè, noi siamo convinti che se gli esseri umani avessero tutti la libertà di scegliere, sceglierebbero il nostro sistema istituzionale. Il nostro sistema istituzionale, grazie a Dio, democratico, tendenzialmente minimalista, individualista, come il nostro, privatistico. Noi lo diamo proprio per scontato. Cioè, se ci interrogassimo, ad alta voce o a mente, ma com'è possibile che qualcuno in giro per il mondo non voglia questo? Cioè, com'è possibile che qualcuno possa scegliere se di scelta si tratta una dittatura? È impensabile. E sarebbe meraviglioso se tutto questo fosse vero. Peccato che non è vero. Le dittature, peroscene che siano, e questo paese una dittatura ce l'ha avuta ormai molti decenni fa, dovrebbe averne esperienza. Le dittature, anche la più oscena, e quella iraniana lo è molto, necessitano di consenso. Non esiste nessuna dittatura senza consenso. Doloroso, certamente sì, ma è comunque molto vero. E ci arriveremo. Il primo approccio davanti all'Iran, che è un impero ed è un impero antichissimo, anche più antico di noi, è che è impossibile prendere le nostre categorie che consideriamo pret-à-porter, cioè si possono indossare in tutti i luoghi, in tutti i laghi, come diceva una canzone che ebbe un'inspiegabile fortuna. Quindi noi siamo convinti che ciò che siamo possa essere preso e riprodotto ovunque, in scala o meno, in miniatura o meno. Noi riusciamo a comprendere in nessuna maniera che gli altri non sono scemi per niente. specialmente un popolo così sofisticato come quello persiano, che se non è il popolo più sofisticato del mondo è certamente tra quelli che lo sono di più. E com'è possibile che una popolazione di questo tenore che sta al mondo da sempre non si renda conto dello stato in cui vive? Non lo diamo per scontato. Diciamo, se ne rendono conto, ma poverini, sopra di loro c'è la dittatura. vero, ma la dittatura iraniana è composta sempre di iraniani. Non vengono da Marte. La dittatura iraniana, questa attuale, cioè la Repubblica Islamica d'Iran, nasce nel 1979 da una rivoluzione che inizialmente aveva generato in Occidente le stesse speranze, definiamolo così, che aveva originato quella dello scorso settembre, poi di fatto morta ai noi verso l'inverno e ci arriveremo. E ancora prima l'onda verde del 2009, anche questa abortita, aveva generato le medesime speranze in Occidente. Cioè ciclicamente, visto da qui l'Iran con il binocolo, abbiamo l'impressione che più o meno ogni tanto ci provino ad essere esattamente come noi, ma poi non ci riescono. Perché, almeno finora, perché qualche impresentabile Pasdaranno o Ayatollah, e lo sono tutti, lo sono davvero, impedisce alla popolazione di fare ciò che sente. quindi questo tipo di approccio è sbagliato. Ti ripeto, è doloroso accettarlo. È molto più soddisfacente dire che il mondo non aspetta altro che vivere come noi. Peccato che non sia per niente la realtà. Anzi, di solito è vero esattamente il contrario. In Iran è un caso dove il contrario è vero. Cioè, se la democrazia liberale, quella in cui grazie a Dio noi viviamo, è occidentale, perché qui è nata ed è forse, a togliere anche il forse, il miglior sistema istituzionale almeno che finora l'uomo abbia mai sperimentato, se è occidentale, ci sono molti popoli in giro per il mondo che dicono allora non ci piace. Punto. Perché non ci piace? Perché non c'entra niente con la nostra cultura. perché non ci piace? Perché non ci facciamo insegnare come stare al mondo dagli occidentali. Oppure perché l'Occidente qua giù ha lasciato una pessima, un pessimo ricordo di sé. Perché l'Occidente è sempre stato il nostro antagonista e in Persia l'Occidente è sempre stato l'antagonista. Anzi, viceversa, la Persia è sempre stata l'antagonista dell'Occidente. per informazioni citofonare greci e romani, ma potremmo proseguire. E i persiani, che non sono gli stessi da venticinque secoli evidentemente, ma si raccontano come tali. La pedagogia iraniana in maniera più sfumata al tempo dello Shah, dello Shah Palavi, questo era più smaccato, ma comunque sotto rimane questo, si racconta come lo stesso popolo da sempre, che ha attraversato tutte le ere, ma è rimasto identico. Non è vero nel suo popolo rimane identico a se stesso. Tuttavia, gli iraniani ci credono, tutti i popoli imperiali ci credono a dire la verità. E quindi dicono se noi siamo sempre gli stessi, l'Occidente per noi è sempre altro. Noi invece, nella nostra semplificazione, nella nostra riduzione di complessità, vediamo la rivolta all'Iran e diciamo, perché non siamo proprio ne scontato, che vogliono vivere come noi. Ciò che l'Iran non è mai stato in venticinque secoli, mai, neanche un giorno, improvvisamente per noi è scontato. Perché noi siamo il fine ultimo dell'umanità, ce l'hanno detto, ce lo siamo detti meglio, e gli altri non aspettano altro. Poi poverini, è impedito loro di diventarlo, perché altrimenti tutti a fare l'aperitivo. Si unisce a questo un altro elemento che noi non comprendiamo da qui. La popolazione iraniana è profondamente giovane, come età media. Oltre l'80% della popolazione si può definire relativamente giovane. Oltre il 70% è sotto i 45 anni. 70% della popolazione è sotto i 45 anni. per noi è proprio impensabile. Cioè, anche a livello visivo, circolare nelle strade iraniane vuol dire vedere milioni di giovani. E chi li ha mai visti? Tutti insieme. Cioè, girare per le nostre strade, l'Italia è il peso più vecchio del mondo insieme al Giappone, ma nell'intera Europa occidentale, che è il continente più vecchio del mondo, noi siamo abituati a vedere per strada persone, se lo soffenderà, non è che l'anzianità sia un reato, persone molto avanti con gli anni. Tutte. E poi ci sono minuscole minoranze di giovani che punteggiano, specialmente nelle ore delle uscite da scuola, le strade e poi scompaiono. Perché non ci sono proprio. Non è che scompaiono perché si chiudono dentro casa. Perché non esistono. Sono la minoranza della minoranza. Per noi è normale. Infatti parliamo dei giovani senza avere nessuna idea di che cosa siano. Ogni volta che si discetta di giovani, c'è sempre qualcuno che dice io credo nelle nuove generazioni, credo nei giovani, sempre. Che renderanno il mondo migliore, che sono migliori dei giovani, sono esattamente come noi. Noi anche, vi do questa grande notizia, immagino lo sapete, siamo stati giovani e non mi sembra che fossimo decisamente migliori di quelli che ci hanno preceduto. Se ne può discutere, a volte sì, a volte no, ma non è automatico. Dei già dire è ovviamente una forma di blandimento dei giovani, no? Dici, io credo in te, tanto costa niente, tu che renderai il mondo migliore, ma perché? Perché dovrebbe? Magari, ma perché è scontato che lo faccia? Soprattutto questo tipo di affermazione nasce dal contatto con i nostri giovani, che hanno grandi pregi, ma nessun pregio da giovane. I nostri giovani che cosa sono? Sono più colti delle generazioni precedenti, più saggi, più responsabili, sono affidabili, mediamente, poi sono esseri umani, quindi c'è di tutto e di più, ma se prendiamo le generazioni italiane di oggi e le paragoniamo a quelle di 50 anni fa hanno queste caratteristiche che ho citato molto più spiccate rispetto a 50 anni fa. Come mai? Non è che c'è stata un'evoluzione della specie, è che non sono giovani. Per noi questo è incomprensibile, diciamo come? A 20 anni non è giovane, non ha atteggiamenti da giovani, ma è normale che sia così. I giovani, non solo italiani, ma dell'Europa occidentale, hanno inevitabilmente assunto i tic delle generazioni più anziane. Se tu sei minoranza della minoranza in una società, assumi il costume della maggioranza, cioè lo fai involontariamente a uno smosi. Infatti i nostri giovani sono anzianissimi e hanno caratteristiche da anziani. Si battono per il bene del pianeta, un giovane. Ma com'è possibile? Peraltro, battersi per il futuro, il futuro è la categoria anziana per eccellenza. Un giovane vero è convinto di non morire mai, non può morire, non esiste la morte per un giovane ed è giusto che non esista. E un giovane infatti non pensa al futuro perché il futuro non esiste, pensa solo al presente perché il giovane è eterno, è perenne. Chiunque è stato giovane per davvero lo sa. Un giovane che pensa il futuro non è un giovane per sua caratteristica, è migliore dei giovani, certo, è più saggio e più affidabile, ma non è un giovane. Un giovane che immagina una vita responsabile, meno male, ma un giovane immagina una vita profondamente irresponsabile. Un giovane che si mette in fila per ottenere ciò che chiede non è un giovane. i giovani pretendono, sono violenti se sono giovani per davvero, fanno casino, sono una distruzione e la loro straordinaria forza è l'essere esattamente così. Quando questo paese era giovane per davvero, i giovani erano così. Che diavolo c'entra con l'Iran? L'Iran ha proprio giovani veri perché sono milioni e milioni e milioni e dal momento che sono maggioranza, non sono la minoranza della minoranza come noi, sono maggioranza, non hanno adottato le categorie di una maggioranza più anziana perché la maggioranza sono loro. Quindi se noi vediamo la rivolta dei giovani in Iran la prima sensazione che abbiamo da qui è dire vedi vogliono una società all'occidentale perché i nostri giovani che conosciamo che cosa chiedono? L'ambiente e poi pretendono i diritti tutti i temi nobilissimi per carità di Dio in Iran no perdendono i diritti sì ma in maniera un po' diversa e ci arriveremo quindi teniamo a mente queste due categorie che ho inserito anzitutto gli abiti occidentali non calzano ovunque e il mondo non vuole essere come noi non è che si sbaglia dice poverini perché noi un po' questo ce lo diciamo non capiscono o anche quando capiscono glielo impediscono no 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 capiscono e non vogliono difficile da accettare ma non vogliono non è che vogliono non vogliono vivere come noi e ci arriviamo e sono giovani sì ma sono giovani per davvero e se sono giovani per davvero non vogliono quello che vogliono i nostri giovani perché sono giovani per davvero e ci arriviamo che paese è l'Iran l'Iran è una repubblica islamica è una teocrazia si dice nasce nel 79 in questa versione ma l'Iran dicevamo c'è da sempre la migrazione dei popoliari cioè quelli che vivevano nell'attuale Persia si spingono fino all'India crea il cuore della nostra civiltà cioè crea solo la religione vedica ma crea il sanscrito che poi che cosa è il sanscrito? ovviamente è il telaio diciamo così di tutte le lingue indoeuropee i persiani sono indoeuropei anzi sono gli indoeuropei per eccellenza non sono una popolazione semitica detto in maniera più semplice non sono arabi per niente sono il contrario degli arabi ma non sono nemmeno turchi sono il contrario dei turchi i turchi non sono arabi a loro volta come immagino sappiate i turchi vengono da Lottanissimo i turchi vengono dalla Mongolia dalla Siberia profonda e hanno attraversato tutto il continente asiatico per arrivare in Anatolia e nei momenti in cui l'hanno attraversato ci hanno messo un giorno ci hanno messo secoli hanno cambiato il continente la ragione per cui oggi partendo dalla Mongolia e scendendo in Asia Centrale si incontrano tutte le popolazioni turciche o turcofone no? quindi gli Uzbechi i Turkmeni poi proseguendo arrivando fino a giù gli Azeri che sempre turchi sono e poi i turchi i kazaki sono tutti turchi loro si definiscono sono ovviamente turcofoni ma comunque possiamo definirli a nostra volta turchi in senso etnico che c'entrano i turchi con gli iraniani i turchi vengono proprio d'altrove sono alieni al luogo in cui vivono ci vivono da millennio quindi sono alieni si fa per dire ma non sono anatolici quando arrivano in Anatolia c'erano i greci c'erano i bizantini che spingono via ovviamente tra l'altro nel loro movimento quello dei turchi i turchi danno il nome ai colori che rappresentano i punti cardinali che noi ancora trasportiamo la cultura turca soprattutto quella originaria assegna ai punti cardinali un colore che noi invece non avevamo nella testa la ragione per cui il mar nero si chiama mar nero non perché sia nera l'acqua perché il nero è il nord per i turchi il mar nero a nord dell'Anatolia il rosso che è il colore che segna il sud è il mar rosso perché è a sud dell'Anatolia e così via il mar caspio una volta lo chiamavano il mar blu i turchi e anche i francesi prendendolo dai turchi per un certo periodo lo chiamavano al femminile la mare come dicono loro blu gli italiani no gli italiani sono un incrocio tra se stessi e il continente indiano tornato da queste parti che attraversa tutti i millenni in tutte le sue denominazioni inizialmente sono zoroastriani la regione di Zaratustria quella del fuoco quando i romani incontrano i persiani prima ancora i greci quindi i medi gli achemeni poi i romani avranno i parti davanti a sé sono tutte declinazioni della civiltà persiana sono zoroastriani non sono mica musulmani non c'era stato l'islam non c'era stato Mahomet non c'era stata la colonizzazione araba che porterà l'islam in Persia erano zoroastriani poi diventano anche qualcos'altro in seno alla civiltà iraniana nascono le regioni che sono fondamentali per la nostra civiltà occidentale ad esempio quella di Mitra che se ne può discutere a lungo ma è certamente antisignana del cristianesimo e così la regione manichea e poi e poi arriva l'islam l'iran viene conquistato dagli arabi che impongono l'islam sunnita inizialmente finché nel sedicesimo secolo l'iran è dominato da una dinastia turcofona i safavidi che introduce un nuovo islam che in due secoli diventa di tutta la nazione che non è una nazione di tutta di tutto il territorio persiano cioè quello sciita perché perché una civiltà così antica e sofisticata come quella persiana il persiano cioè il farsi la lingua persiana attuale è una lingua che sopravvive nei secoli cioè ovviamente il persiano antico c'è il medio persiano poi si arriva a quello attuale il persiano palavi eccetera ma è la medesima lingua che è talmente sofisticata che diventa la lingua di corte di tutte le civiltà intorno i mongoli tra mongoli e turchi specialmente all'inizio la linea di demarcazione non è chiarissima sono lo stesso popolo di fatto i mongoli che dominano l'India e che ci hanno lasciato il Taj Mahal che è il simbolo dell'India che è un simbolo mongolo scrivevano in persiano l'alfabeto arabo ma in lingua persiana la corte turca quindi ottomana ha il persiano come lingua di corte per un certo periodo la grammatica persiana è semplicissima perché è sempre stata maneggiata da stranieri al punto che oggi un persiano di media cultura riesce a leggere senza grandi difficoltà un testo di mille anni fa scritto in persiano noi un testo di mille anni fa scritto in italiano lo leggiamo ma con una parafrasi no? ovviamente non è immediato di solito che poi sono liriche quindi insomma è complicato il persiano è rimasto più identico a se stesso perché? perché è una lingua culturalmente dominante e un popolo così diventa sciita perché ha accettato l'islam che hanno portato non suonando al campanello con l'invasione gli arabi ma non può bastare i persiani i persiani sono un impero autoreferenziale cioè nascono e muoiono dentro se stessi sono un mondo intero hanno sempre valutato se stessi come un mondo intero che è oltre i loro confini no? i Pashtun sono una popolazione iranica i kurdi sono una popolazione iranica come gli iraniani ebbene i Tajiki anche lo sono nella loro testa il mondo finisce con loro allora abbracciano l'islam ma devono averlo proprio diventano sciiti cioè diversi da tutti gli altri musulmani l'iran è sciita per eccellenza lo portano sì dei turcofoni iniziali ma che si persianizzano i Safaviti sono una dinastia di origine turca che diventa persiana profondamente persiana tanto il dominio sulla Persia di dinastie turche sarà lunghissimo ma perfettamente persianizzate al punto da non riconoscerli più nel 1925 quando cade l'ultima dinastia esterna definiamola così i Kajari erano turchi d'origine erano diventati perfettamente persiani nei secoli dopodiché ci sarà lo Shah ci saranno i Palavi che sono invece autottoni quindi mettiamo sul tavolo tutte queste informazioni senza complicarci troppo la vita l'Iran è un mondo a sé che prende da fuori e lo trasforma applicandolo a se stesso non come noi immaginiamo da qui non vedono l'ora di essere come noi non sono abituati sono abituati a cambiarlo il mondo sono abituati che il mondo segue loro non viceversa poi c'è Osmosi fra tutte le civiltà del pianeta anche gli iraniani hanno rubato dagli altri come noi ma sono sempre rimasti se stessi e non è esattamente un dettaglio questo paese dunque sciita nel corso del tempo crea una mitopoiesi cioè una mitologia di sé estremamente specifica se voi leggete il libro dei re che è l'opera lirica il poema per eccellenza poi la divina commedia dell'Iran è un lunghissimo excursus che racconta la storia pre-islamica dell'Iran di quella degli achemenidi dei medi dei parti eccetera soprattutto che cosa fa reinventa totalmente gli episodi storici camuffandoli cambiandoli ad esempio sapete i persiani vengono sconfitti dai greci dai macedoni di Alessandro Magno nella battaglia decisiva di Gaguamela ma questo non è accettabile per i persiani di molti secoli successivi nel poema che si impara a scuola in Iran come la nostra divina commedia c'è scritto che sì è vero che Iskander come lo chiamano cioè Alessandro ha sconfitto Dario che era l'imperatore dei persiani ma perché? perché era persiano a sua volta e leggono che al termine della battaglia nell'orecchio al morente Dario gli dice io sono un figlio illegittimo di una donna persiana battriana addirittura e poi si sposerà e questo però un fatto storico due donne persiane lo farà apposta Alessandro ovviamente per mantenere il legame imperiale sulla Persia cioè per prendersela infatti ci sarà un impero ellenistico persiano dopo di lui ma questo per gli iraniani non conta ciò che leggono ovviamente è una lirica ma è un testo storico che Alessandro era persiano non poteva non esserlo se il mondo comincia e finisce qui non poteva non esserlo infatti lo era Iskander Alessandro nemmeno è mai esistito secondo Firdusi che è il poeta che ha scritto questi versi talmente dentro la cultura persiana che anche questo regime è un regime teocratico che ha il terrore di tutto ciò che è pre-islamico fino a un certo punto ha eretto un busto a Firdusi nella piazza centrale di Teheran a proposito le piazze si chiamano Maidan in Persia perché sapete come dicevamo i turchi prendono il persiano come lingua alta e piazza è una radice indoeuropea Maidan vuol dire medio cioè sta in mezzo la piazza sta al centro vuol dire nient'altro è come come se la piazza si chiamasse al centro Maidan i turchi poi invadono nel corso del tempo anche la Crimea quindi arrivano ancora prima con l'orda d'oro che era turco-mongola distruggono la russa di Kiev quella che i russi considerano l'embrione della loro civiltà viene distrutta dai turco-mongoli dell'unica invasione da Est che subisce la Russia poi le subirà tutte da Ovest cioè da noi che cosa introducono i turchi che indoeuropei non sono tutt'altro sono il contrario degli indoeuropei introducono Maidan che è un termine persiano che ancora oggi indica la piazza centrale di Kiev che si chiama piazza dell'indipendenza qualcuno la chiama piazza Maidan che vuol dire piazza-piazza questo significa niente ma Maidan è un termine persiano dicevo Firdusi ha avuto questo busto in quanto sebbene pre-islamico e Ahmadinejad che è stato presidente qualche anno fa l'avete sicuramente sentito nominare la Repubblica Islamica ha sostenuto che l'anno di nascita di Firdusi coincideva per strane ragioni con l'anno in cui l'imam il dodicesimo quello che aspettano i persiani nel loro ritorno si è nascosto in realtà è stato ucciso dagli arabi ma si racconta come è nascosto perché tornerà sulla terra quindi c'è una forma di sincretismo tipica dei persiani in cui ciò che è pre-islamico diventa anche islamico e si incrocia questo per dire che cosa non prendiamo gli iraniani come sauditi come sauditi wahhabiti la loro è una religione di importazione che hanno manipolato sulla loro storia rendendola sciita e che hanno sempre vissuto in questo modo altro elemento da tenere a mente prima di entrare nella rivolta attuale dell'Iran è che gli iraniani tendenzialmente ciò che non perdonano alle dinastie che li guidano è come tutti i grandi imperi un elemento principale potremmo dire l'assenza di diritti no non ce l'hanno mai avuti non li considerano come li possiamo considerare noi non ne hanno la nostalgia che ne avremmo noi se li perdessimo le condizioni economiche no perché sono un paese massimalista quindi certo morire di fame non piace a nessuno ma non vivono di economia come tutte le popolazioni massimaliste di che cosa campano di potenza nella loro testa c'è la potenza ci arriveremo ma allora che cos'è che non perdonano le loro dinastie se si fanno umiliare dagli stranieri o se le percepiscono nelle mani degli stranieri la dinastia Kajara di origini turche nel 1925 crolla con una rivoluzione perché il paese si fa umiliare lasciandosi penetrare da inglesi e russi lo Shah re Sapalavi nel 79 crolla perché noi visto da qui anche all'epoca si diceva evidente perché anche quella dello Shah era una dittatura e che dittatura gli iraniani fanno la rivoluzione perché vogliono vivere come si vive tra il Lussemburgo e il Belgio noi queste cose ci crediamo davvero ma sul serio per noi chi fa la rivoluzione vuole essere come noi magari oddio magari non so se questo è esattamente un pregio però se volessi ristrutturare una democrazia magari e poi scopriamo che ciò che non perdonava lo Shah qual era il grande neo dello Shah non è che una dittatura vale l'altra anche gli iraniani hanno avuto chissà quali regimi illuminati perché provvisamente così nel 79 lo cacciano perché lo Shah era alleato dell'Occidente e per un iraniano è impensabile ce l'accusavano di essere un fantoccio degli Stati Uniti i servizi di intelligenza interni dell'Iran di allora sono stati addestrati dagli israeliani per un iraniano è troppo è giusto assolutamente no però ragiona in questa maniera qua e chi ha fatto la rivoluzione nel 79 in Iran i giovanissimi giovanissimi forse poco anche più che giovanissimi ma come i giovani ci hanno detto che sono la parte migliore della società questi sono giovani per davvero quindi se fanno la rivoluzione a parte che soltanto i giovani veri fanno la rivoluzione se no i giovani più anziani non fanno la rivoluzione ovviamente perché poi la sera tornano a casa la rivoluzione vuol dire non tornare a casa la sera pensate le famiglie in Italia dove stanno facendo la rivoluzione li vanno a cercare cioè dice ma viene a dormire a casa però noi siamo convinti che i giovani esistano in Italia cioè i giovani giovani non tornano a casa cioè le mamme muoiono di crepacuora anche i padri c'è una figlia ad 11 anni se mi dice adesso è un po' giovane ma se vado a fare la rivoluzione dico parliamo un attimo cioè facciamola come diceva un vecchio cantante da casa facciamola da remoto i giovani che nel 79 fanno la rivoluzione d'Iran la fanno per davvero e per fare la rivoluzione vi do quest'altra grande notizia si crepa difficile non morire che qualcuno non muoia e nella violenza che ha un giovane di vent'anni la morte la incontra soltanto nell'atto estremo della rivoluzione convinto che non esista perché come diciamo un giovane per eccellenza non può morire ma è impensabile no? com'è possibile? è come quando adesso che noi non abbiamo più i giovani quindi l'impressione che abbiamo è che l'umanità sia estremamente fragile perché perché le generazioni più grandi sono fragili proprio fisicamente no? è già evidente sono alciaccate sono fragili eccetera eccetera infatti se voi vedete i pochissimi bambini che esistono neonati le nostre latitudini sono trattati con enorme apprezzione meno male perché insomma meglio conservarli però non ce ne rendiamo conto che i bambini sono la parte più forte di noi se non la stirpe umana non si sarebbe mai replicata se fossero così fragili come li immaginiamo che se camminano e sbattono la testa sveniamo invece la natura è fatta proprio così cioè un bambino sbatte la testa e un secondo dopo non se lo ricorda ma non ce lo ricordiamo più noi perché non non li riconosciamo più queste che possono sembrare inutili e noiosi digressioni sono decisive nel guardare un paese che è profondamente giovane che quindi ragiona già in maniera profondamente diversa dalla nostra in cui i giovani sono una maggioranza vogliono comandare o comandano non è che ci toforano chiedendo cioè da noi il patto qual è tra giovani e genitori io genitore non andrò mai in pensione se non a 70 anni ma forse neanche nel frateppo ti mantengo finché posso poi casomai toccherà a te questo patto più o meno sceno senza nasconderci è la base della nostra società ogni tanto i giovani dicono non c'è lavoro perché i genitori stanno ancora lavorando cioè non è che c'è un ricambio in una società di moltissimi giovani la rivolta sarebbe anche contro questo tipo di sistema immaginatelo da noi fortunatamente no è un patto sotterraneo tra generazioni in Iran questo non esiste per niente e l'idea che hanno i giovani della rivoluzione è un'idea giovane facciamo un esempio e andiamo nell'attuale rivolta la rivolta nasce come innesco da un fatto tragico e drammatico anche da raccontare che immagino conoscete tutti una giovanissima ragazza ma Shamini 16 settembre dell'anno scorso viene arrestata perché accusata dalla polizia morale iraniana di non indossare propriamente il velo in situazione non del tutto chiarita ma la possiamo purtroppo immaginare viene uccisa dalla polizia dopo essere stata detenuta questo genera una rivolta spontanea soprattutto di donne eroiche che scendono in piazza e reclamano pari diritti come gli uomini in difesa di una ragazza che ha fatto una fine tanto tragica asterisco ma Shamini era di origini kurde teniamola a mente l'iran è un impero tra le tante cose che ancora oggi è un impero che diavolo significa essere un impero non ha un valore spregiativo o migliorativo tanto o meno è un dato di fatto cioè l'impero è una costellazione in cui c'è un ceppo dominante staziato su un territorio che non vive come immaginiamo in uno stato nazionale come può essere l'Italia gli italiani vivono qui i francesi vivono lì i belgi certo hanno delle minoranze al centro ma la stragrande maggioranza è come nel nostro paese ben oltre il 90% è italiana così in Francia in Spagna voglio che i spagnoli non esistono quindi lasciamoli da parte ma in Germania sì i tedeschi esistono eccetera l'Iran è un impero quindi ha un ceppo dominante che è molto diverso che sono i persiani che sono 60 65% della popolazione e poi popolazioni che da sempre sono sotto di loro da sempre no ma da molto tempo sono sotto di loro chi? anzitutto gli azzeri che sono turchi persianizzati gli azzeri vivono più in Iran che nell'Azerbaijan 15 milioni di azzeri vivono in Iran 10 milioni in Azerbaijan così in quattro province diverse l'Iran ha quattro province di maggioranza turca gli azzeri sono turchi lo ridico per l'ennesima volta parlano la stessa lingua anche dei turchi ma qui c'è un'avversativa grande come una casa sono sciti per questo che non stanno con i turchi perché i turchi sono sunniti e per i turchi anche se Erdogan e tutti i neottomanesimi lo dico scherzando cioè i neottomani anche se questi vorrebbero unire due paesi è un proposito di Erdogan proprio detto esplicitamente cioè che la Turchia e l'Azerbaijan secondo lui dovrebbero unirsi attenzione l'Azerbaijan straordinario produttore di idrocarburi sappiamo qualcosa perché i idrocarburi azzeri arrivano in Puglia il famoso gastotto il TAP di cui si è tanto discusso da lì viene l'Azerbaijan è la ragione per cui quando la Germania e noi con la Germania anche se l'abbiamo rimosso invadiamo udite udite l'Unione Sovietica perché noi abbiamo invaso l'Unione Sovietica durante la seconda guerra mondiale operazione Barbarossa c'era l'armata italiana le direttrici di invasione ce n'è una di queste la principale punta mosca la prima punta ovviamente l'Ucraina che occupa il granaio d'Europa poi l'altra punta mosca e poi ce n'è una che va giù verso il meridione perché andava verso l'Azerbaijan che era il primo produttore di petrolio del mondo di allora gli azzeri sono noi ci sembra vediamo ogni tanto li sentiamo un popolo minore cioè gli azzeri sono un popolo molto importante perché sono turchi sciiti che i turchi considerano più o meno dei traditori perché sono centrati sulla Persia sono turchi ma che vivono gravitando sulla Persia cioè Com che è la città sacra per eccellenza anche se le città sacre sciite sono soprattutto in Iraq adesso lasciamo da parte questo non ci interessa loro gravitano sulla Persia ci vivono dentro poi chi c'è poi ci sono i curdi i curdi sono iranici sono persiani come i persiani ma sono niti anche loro e questo per i persiani è un elemento d'alterità culturale che non è accettabile i curdi si definiscono più persiani dei persiani se no sembra che vengano da Marte si definiscono gli unici discendenti dei medi quelli che incendiarono l'acropoli i medi per usare una celeberrima prosa eccezionale sono quelli che hanno reso gli attenesi un popolo marittimo perché gli incendiano l'acropoli si lanciano sulle barche come dice il poeta non torneranno più i curdi sono i discendenti di quelli là sono persiani come i persiani ma sunniti e poi ci sono i balucci che sono esattamente mentre i curdi sono nella parte occidentale dei paesi i balucci sono in quella orientale confinano con il Pakistan sono persiani e i sunniti anche loro e accusati dagli atti persiani di essere manipolati dai pakistani e poi ci sono altre minoranze più piccine ecco l'Iran è un impero di questa fattura non so se ce ne diamo conto della complessità noi lo vediamo da casa dice eccoli qua hanno visto le serie televisive che vediamo noi vogliono diventare esattamente come noi poi al bar a cena ogni tanto dice ah quanto sono preoccupato per la situazione in Iran dopo ordine al secondo e si va avanti la situazione è sempre più complicata di così dall'altro nell'impero persiano attuale cioè l'Iran cioè sempre un ceppo dominante che è quello dei persiani che accetta soltanto una parte della popolazione non alla pari ma quasi che sono proprio gli azzeri la guida suprema cioè la yatollah kamenei è di padre a zero cioè turco lo stesso kamenei che è un'indicazione di luogo vuol dire nativo originario di kamenei che è una città dell'Azerbaijan iraniano vuol dire nient'altro cioè qui di lui era di padre turco gli azzeri sono l'unica parte vagamente accettata nella classe dirigente i kurdi i balursi tutti gli altri non sono mai nella classe dirigente iraniana teniamo a mente anche questo dicevo infatti la ragazza che viene trocitata era kurda di origini e non è un dettaglio in Iran per noi può anche esserlo da quelle parti no i kurdi sono sunniti e soprattutto sono iraniani sunniti mentre gli azzeri sono turchi maschiti quelli sono addirittura iraniani cioè come se fossero fratelli cugini ma che hanno preso strade diverse opposte gravitano su imperi diversi i kurdi su quello turco odiandolo peraltro gli azzeri che sono turchi su quello persiano come se si fossero incrociati scoppia la rivolta e qui dobbiamo cominciare a stabilire che cosa vogliano è una rivolta molto giovane e soprattutto dominata dalle donne nella parte più eroica quelli che noi chiamiamo generazione Z alfa sono ovviamente invenzioni anglofone da quelle parti hanno nomi diversi da quelle parti i corrispettivi sono essenzialmente gli 80 e 90 perché sono coloro che sono nati negli anni 80 e 90 del XIV secolo secondo il calendario islamico che sono quelli che scendono in piazza gli iraniani non sono per niente un popolo religioso non lo possono essere la religione in Iran l'islam è di importazione ed è stata manipolata per soddisfare l'impero è diventata sciita lo era già non è che se la inventano gli iraniani ma la fanno loro ne diventano l'emblema dello sciismo gli iraniani anche quelli rurali sono mediamente religiosi per niente nelle grandi città mediamente in campagna ma mediamente cioè non sono per niente religiosi come gli Ayatollah che cosa succede nel 79 gli iraniani fanno la rivoluzione perché imputano allo Shah di essere un burattino nelle mani dell'Occidente ci vuole un altro regime lo Shah aveva come narrazione una narrazione profondamente pre-islamica cioè diceva noi siamo i discendenti di Ciro di Dario di Serz eccetera eccetera siamo sempre noi sì abbiamo l'Islam ma ci interessa fino a un certo punto perché noi siamo soprattutto quel grande impero però poi gli dicono eh amico mio però tu sei alleato degli Stati Uniti d'America cioè dell'Occidente per eccellenza in questa fase storica via lo Shah quando si compie la rivoluzione gli iraniani creano qualcosa che noi qui non conosciamo cioè compongono una sintesi egheliana perché la rivoluzione del 79 è una rivoluzione borghese fatta da borghesi esattamente come quella americana esattamente come quella francese identica con qualche anno di ritardo ma noi siamo abituati che le rivoluzioni borghesi cioè fatte dal come dire dal ceppo medio dal ceto medio abbiano realizzato in occidente l'espulsione della religione dalla politica cioè le due rivoluzioni che poi diventeranno anche la nostra dividono Stato e Chiesa è la rivoluzione francese anzitutto che compie questa divisione la rivoluzione francese è una rivoluzione fortemente anticlericale come ben sappiamo no? l'Iran no l'Iran compie una rivoluzione borghese e crea una teocrazia noi già questo non lo possiamo concepire ma come mai se non sono così religiosi richiamano un signore che si è rifugiato in Francia un ayatollah comeini quasi sempre tronca la parola comeini si dice in Italia che arriva nel tripudio all'inizio del 79 e diventa il leader della rivoluzione un ayatollah in una rivoluzione che inizialmente era laica un po' come quella che vediamo che se non è una rivoluzione è la rivolta che abbiamo visto in questi mesi allora come diavolo è possibile che cos'è che della repubblica islamica convince la popolazione almeno inizialmente che rimane profondamente antioccidentale cioè richiama la religione è un richiamo d'alterità noi non siamo occidentali perché siamo musulmani e di più visto che gli iraniani sono alieni nella regione in cui vivono perché sono indoeuropei a differenza di tutti gli altri che sono principalmente semiti tranne i turchi che sono altrettanto alieni la missione imperiale dell'Iran da molti secoli qual è? il panislamismo non è che possono essere panarabi gli iraniani esattamente come i turchi considerano degli arabi dei subumani cioè lì l'arabo in tutta la regione è considerato molto male sono tutti molto razzisti come potete immaginare questo lo diamo per scontato direi che possono dire noi siamo panarabi cioè un iraniano si lancia dalla finestra panarabo chi? l'irano è indoeuropeo cioè è più vicino l'irano di un italiano che è un arabo nettamente più vicino come lingua allora il panislamismo però è una religione alla quale tu sei alieno ti serve come missione imperiale per dire noi siamo il centro del mondo dovete stare con noi perché noi siamo il cuore dell'islam perché gli altri sono tutti diversi da te è questo che convince gli iraniani all'inizio della rivoluzione del 79 che è antioccidentale e panislamica in senso imperiale non in senso confessionale gli iraniani abbiamo detto non sono un popolo particolarmente religioso chi capitasse a Teheran se ne accorgi subito religiosi non granché l'idea della rivoluzione del 79 è esattamente questa ed è viene abbracciata per questo motivo perché è antioccidentale e perché ha una missione quasi universalistica che era nella testa di Khomeini quando negli anni 80 sta crollando l'Unione Sovietica il nostro Khomeini che diciamo aveva molte caratteristiche di certo non gli mancava un altissime da di sé verga una lettera che spedisce a Mikhail Gorbachev che i russi non amano usiamo un eufemismo diciamo se tu dici un russo di Gorbachev ti mette sotto con la macchina e all'epoca era nella fase declinante l'Unione Sovietica perché ce l'hanno con Gorbachev i russi perché colui che secondo loro in realtà non è vero archivia l'impero cioè la massima estensione dell'impero russo cioè l'Unione Sovietica non glielo possono perdonare infatti amatissime in Occidente e anche per i russi se uno amatissime in Occidente non si fidano come Inis scrive a Gorbachev fino agli anni Ottanta dopo una decina d'anni che era al potere caro amico visto che il tuo impero cioè l'Unione Sovietica va morendo la perestroica era un tentativo disperato di salvarlo devi cambiare davvero glielo scrive se no sembra una favoletta devi cambiare ideologia imperiale non più la lotta di classe che è stata l'ideologia imperiale dell'Unione Sovietica per decenni ma fa sorridere il pan-islamismo solo che la Russia non è un paese islamico ha 20 milioni di islamici oggi al suo interno tutti i sunniti peraltro non sciiti come gli italiani che sono soprattutto turchi perché sono una ventina di milioni di turchi dentro la Russia che sono tatari anzitutto Kazan non so chi è mai sentito la città che è la capitale del Tatarstan i tatari sono turchi sono anche quelli che abitano in Crimea sempre tatari e sempre turchi sono comunque Comini dice fa una bella cosa cambi ideologia imperiale prenditi il pan-islamismo siamo cristiani un po' complesso però questo ci dà l'idea della mentalità iraniana il mondo inizia principia e finisce in Iran nella rivolta di oggi che cosa succede? succede che le donne e anche altri giovani chiedono pari diritti questi li vogliono sono mediamente laici non sopportano la zelante mitologia degli Ayatollah perché non sono così religiosi non la sopportano e noi da qui diciamo ecco qua beh dopo tutte queste chiacchie però lo vedi che vogliono i nostri stessi diritti saranno diversi da noi saranno giovani per davvero ma guarda un po' però poi scopriamo cose un po' strane se noi vediamo le donne che scendono in piazza indossano gioielli molto strani gioielli zorastriani sapete se ho detto mai visto il simbolo della religione zorastriana che non esiste più ufficialmente in Iran anche se i tempi ci sarà un tempio del fuoco ufficiale ma non si registrano più per esempio il più grande tempio zorastriano del mondo sta a Londra se non è il più grande è uno dei più famosi perché sta a Londra perché come sapete quando c'è la dominazione araba quindi l'imposizione dell'islam nel medioevo nostro in Iran una parte della popolazione fugge va in India diventano parzi cioè diventano li chiamano persiani molto semplicemente da questi ad esempio discende Freddi Mercuri discendeva Freddi Mercuri che era infatti zorastriano d'origine persiane una regione che tuttavia di fatto non c'è più se il tempio è più importante lo devi trovare a Londra evidente che non c'è più indossano questi anelli in cui c'è il simbolo classico con le ali spiegate della regione zorastriana li portano o alle dita o al collo cominciano a chiamarsi fra di loro con nomi zorastriani di più uno dei momenti più drammatici della rivolta capita ad ottobre dell'anno scorso quando circa un milione così vengono annunciate di persone giovanissime vogliono andare in pellegrinaggio sulla tomba di Ciro il Grande perché cadeva l'anniversario della sua entrata trionfante a Babilonia qualche migliaio di anni prima ma attenzione siamo proprio sicuri che vedano il mondo come noi giovanissimi siamo proprio sicuri che la sera vogliano stare a casa a vedere le serie televisive americane parliamone infatti viene impedito loro di andare sulla tomba di Ciro perché è un elemento eversivo preislamico imperiale preislamico dunque eversivo nella testa degli Ayatollah questi giovani vogliono uno stato più laico certamente ma non occidentalista imperiale persiano giovanissimi non sessantenni quindi nostalgici di che non si sa neanche ventenni in alcuni casi sono giovani per davvero e quindi hanno un'idea del mondo anche violenta applicata a se stessi la canzone baraiè che è stata diffusa in tutto il mondo nei giorni della rivolta che è cantata anche dai più celebri cantanti del pianeta tra cui Coldplay tra i vari elementi di questa canzone che è tutto un per per cioè in nome di cosa si fa la rivoluzione a questo punto c'è un passaggio che da noi sarebbe impensabile per la patria a parte già dire il termine patria le nostre latitudini ti internano cioè c'è qualcuno che non ti fanno neanche visitare i parenti perché sei chiaramente pericoloso la patria è l'Europa quindi ciò che è ineffabile per eccellenza ma la patria vera non esiste più cioè non può essere casa tua deve essere lontana intoccabile possibilmente che ci dia qualche soldo quello sì invece introducono un sostantivo stranissimo alle nostre latitudini e sono giovanissimi e poi a fianco a loro c'è un'altra parte della popolazione che è arrabbiata esattamente come loro ma per ragioni diverse con il regime chi sono? sono quelli che noi chiamiamo i millennials si dovrebbe dire in inglese lasciamo stare che sono i 60 perché sono i nati negli anni 60 del XIV secolo che è il calendario ovviamente vigente attenzione il calendario è solare non lunare come negli altri paesi islamici e il capodanno iraniano a proposito di sincretismo anche il capodanno zorastriano cioè Norus che può dire che il giorno nuovo è l'inizio della primavera bene che cosa vogliono questi che sono quindi più grandi sono tardo trentenni quarantenni altrettanto arrabbiati con il regime chi sono? sono coloro che sperimentano sulla loro pelle la stessa fatica imperiale che si può trovare negli Stati Uniti d'America identica anche questo per noi è un po' strano cioè sono quella generazione che da molti anni fa la guerra in nome dell'Iran dove? anzitutto in Siria dove gli iraniani insieme ai russi hanno impedito il collasso del regime di Damasco che sta ancora lì con il regime alawita sono arabi ma sciiti e quindi clienti imperiali dell'Iran così come lo ha Hezbollah che sono arabi siamo in Libano in questo caso arabi sciiti anche loro l'Iraq che avrete sentito nominare immagino qualche volta sono tutti paesi artificiali non sono stati nazione come lo immaginiamo noi sono province dell'impero ottomano emerse alla vita alla fine della prima guerra mondiale con lineamenti cioè proprio tracciati sul territorio da due diplomatici uno francese che si chiama Picot di cognome e uno inglese che si chiama Sykes che si assegnano cioè francesi e britannici la sfera di influenza con i protettorati in Medio Oriente sulle spoglie dell'impero ottomano e fanno anche i confini creano dalle province dell'impero ottomano questi stati che tutto sommato sgangherati e neghittosi stanno ancora lì ma non sono stati in azione l'Iraq è un paese che ha una maggioranza sciita arabo sciita una minoranza arabo sunnita un'altra minoranza kurda cioè iranica nel nord dell'Iraq batte la pesca cioè fatto così a strati e fino al 2003 in Iraq dominava una minoranza cioè gli arabo sunniti guidati da Saddam Hussein in combutta con i cristiani spesso fedeli di Roma i caldei storico ministro degli esteri di Saddam si chiamava Tarek Aziz era un cristiano di dito greco ma cattolico cioè fedele di Roma e la maggioranza quella arabo sciita sotto gli americani rovesciano questo paradigma e l'Iraq diventa vicino all'Iran all'impero persiano ma per mantenere tutto questo l'Iraq davanti alla rivolta quello che veniva detto il sedicente stato islamico che al di là del franchising queste sono operazioni in franchising che diavolo era era l'insurrezione sunnita cioè i sunniti che dicevano noi non ci vogliamo stare sotto gli sciiti perché questi sono vicini all'impero persiano noi invece siamo sono arabi come noi ma tifano per l'impero persiano tramite virgolette perdonate termine improprio noi vogliamo stare verso Mecca e Medina e diventano tra le altre cose anche stato islamico quindi lo sceno per eccellenza ma al loro interno nello stato islamico chi c'era? spesso c'erano gli alti ufficiali dell'esercito batista cioè quello di Saddam che erano tutti di formazione ateo-socialista che devo dire delle guerre di religione in franchising per mantenere questa sfera di influenza così complessa mi hanno conto vi coppico un po' la vita stasera quella che va dall'Iraq alla Siria disegnata dagli europei ma così complessa al loro interno gli iraniani negli ultimi vent'anni sono morti più volte in questi territori le guardie rivoluzionali iraniane sono andate a combattere in Siria a fianco ai russi per impedire che l'insurrezione sunnita che si chiamava stato islamico che era faceva ridere sul piano militare ma vi ricordate quali attentati era capace di compiere in occidente veramente drammatici sconfitto dai persiani sul terreno dai russi dal cielo questa parte di generazione iraniana l'ha visto solo sulla sua pelle e riclama vista la stanchezza un po' quella che hanno gli americani che fanno la guerra da sempre in giro per il mondo loro nel territorio cioè nel grande Medio Oriente che cosa chiedono al regime un'esposizione minore cioè almeno uno sforzo minore oppure un premio maggiore per i loro sforzi quindi già vediamo che la rivolta è composta da filoni diversi ci sono i pari diritti c'è la richiesta di un paese sì più laico ma imperiale al punto di andare sulla tomba di Ciro e poi Zoroastriano già qui noi cominciamo a perderci dice mazza quanto era più simpatico prima la rivolta come ce l'avevano raccontata era decisamente più simpatica perché poi nel momento in cui diventa dicotomica è chiaro che i buoni sono quelli che fanno la rivolta evidente i cattivi sono quelli che rappresentano la dittatura penso su questo siamo tutti d'accordo il problema è che non è così semplice poi c'è quest'altra generazione e poi da ultimo chi c'è l'enorme maggioranza della popolazione silente e dov'è dove sta perché noi ci diciamo beh vedi non sono riusciti a fare la rivoluzione non sfondano perché l'apparato sicuritario repressivo della dittatura li ha stroncati il che è vero ma come dicevamo all'inizio ogni dittatura per quanto schifoso sia ed è difficile da accettare per ciascuno di noi ha sempre un consenso il momento in cui non ha un consenso non c'è più viene rovesciata sempre cioè noi anche qui abbiamo una sensazione che gli esseri umani esprimano la loro volontà soltanto nelle democrazie liberali la democrazia liberale è certamente la migliore forma di governo staccata che conosciamo ma non è vero che gli esseri umani esprimano la loro volontà solo nella democrazia liberale per niente gli esseri umani esprimano la loro volontà in forma aggregata ovunque da sempre altrimenti se questo fosse vero in Italia si vota nel senso democratico liberale dal 1946 gli esseri umani su questa penisola meravigliosa ci vivono da millenni e millenni e millenni se questo fosse vero vorrebbe dire che questi esseri umani non hanno mai deciso niente delle loro vite e che non può essere vero cioè si decide in maniera diversa molto diversa facendo la rivoluzione ad esempio uccidendo la classe dirigente sostituendola ammazzandola grande classico dell'umanità da sempre non è che è una cosa nuova e qui accadeva sempre è sempre accaduto si sostituiva oppure arrivava un'altra potenza che dominava metteva la sua poi veniva sostituita e poi in base a quello che chiedeva la popolazione ci poteva essere una rivolta oppure era sottomessa poi se riusciva a rivoltarsi rovesciava il regime si esprimeva così a livello politico cioè non dobbiamo credere che solo dove ci sono le elezioni e in Iran le elezioni peraltro ci sono ma sono tutte zeppe di brogli non vuol dire che non esprima la sua volontà la popolazione perché la classe dirigente e anche repressiva è sempre composta da iraniani non sono stati affidati loro da Marte noi a volte questo tendiamo a sottovalutarlo non è che come dire gli ayatollah l'elite del regime è straniera e si è imposta con l'arma atomica è il frutto della rivoluzione del 79 che gli iraniani hanno compiuto e hanno messo altri iraniani alla loro testa cioè questa banalità noi tendiamo totalmente a misconoscerla dice vedi il regime ne impedisce loro di fare quello che vogliono sempre iraniani sono sono sempre iraniani contro iraniani che evidentemente hanno un loro consenso ed è quella enorme maggioranza della popolazione che è silente che non ama probabilmente nel profondo questo regime come non lo ama oggi in iran nel profondo nessuno ma riconosce ancora questo regime un dettaglio che diciamo all'inizio è fondamentale in un paese come l'iran questo regime è profondamente antioccidentale ed è la ragione per cui sta ancora lì la principale ragione è questa cioè chi ci garantisce dicono che il prossimo sia altrettanto e per loro è molto rilevante quando una popolazione dicevo all'inizio non campa di economia non campa di qualità della vita per come lo intendiamo noi anche qui un altro passaggio che è quello riguardante l'individuo noi da bravi occidentali ragioniamo in termini individuali l'individuo l'abbiamo creato noi cioè il concetto che esista un individuo è un'invenzione puramente occidentale ma nel resto del mondo non c'è come quando succedono le cose che so in Afghanistan e si sente dire ma che pensano gli afghani oppure abbiamo tradito gli afghani ma dove stanno la vera domanda dove stanno gli afghani gli afghani non esistono ma letteralmente cioè non è non è una frase così lanciata per aria innanzitutto proprio non esistono a livello etnico se voi vedete una mappa etnica gli afghani gli afghani non ci sono ci sono i Pashtun che sono la maggioranza e sono iranici come gli iraniani parlano il Dari che è una derivazione del Farsi cioè della lingua persiana ma lo lasciamo da parte questo non esistono perché nel resto del mondo esiste la collettività cioè che cosa pensa la tribù che cosa pensa il gruppo sociale il singolo individuo non esiste proprio cioè ciò che pensa non ha valore ed era così anche qui qualche tempo fa un bel po' di tempo fa quindi non possiamo applicare le nostre categorie ad un paese dove l'individuo non è sopra la collettività è sotto in Iran il gruppo principale è quello della famiglia diciamo e anche in Italia ma era un po' diversa cioè il clan familiare è anche molto esteso ha una sola voce non è che l'individuo decide da sé quindi già noi siamo davanti ad un soggetto al quale applichiamo le nostre categorie che non ha e poi ragiona in quella maniera che ho provato a spiegare in questa ora di racconto sull'Iran c'è ragione in modo capovolto rispetto a noi è occidentale non mi piace questo per la grande maggioranza non lasciamo perdere le elite delle città le elite delle città sono tendenzialmente fino a occidentali come lo sono anche a San Pietroburgo a Mosca come lo possono essere a Istanbul ma non contano niente cioè le elite in un paese contano sempre meno della massa ma noi ci hanno segnato esattamente il contrario nel momento in cui la Turchia negli anni 90 recupera il neo-ottomanesimo lo fa perché perché le masse rurali dell'Anatolia sono lontanissime da Istanbul vogliono l'impero anche velleitario sgangherato ma vogliono quello e qui torna a quello che dicevo poco fa perché non vivono di qualità della vita che il nostro obiettivo ultimo qual è? vivere bene e per noi è naturale che sia così tra l'altro noi abbiamo scoperto questo da 60 anni cioè non c'è mai stato qua però gli esseri umani sono tutti smemorati soprattutto è una questione biologica ciò che è il nostro presente diventa perenne noi ne siamo convinti infatti l'essere umano non accetta la morte perché è convinto che siccome la vita esiste debba essere perenne non funziona così tutto ciò che è umano ha un ciclo nasce maturo e muore e allo stesso tempo tutto ciò che è non necessariamente è stato e la qualità della vita è un'invenzione recentissima queste latitudini e quelli che non vivono di qualità della vita di che cosa campano? lo dicevo poco fa ed applicabile a tutte le nazioni massimaliste o gli imperi massimalisti campano di potenza dice ma precisamente che vuol dire? campano di gloria che è un sostantivo che a noi fa sorridere noi lo usiamo in modo ironico sarcastico e che lavoro per la gloria e che sono venuto per la gloria no? ogni tanto lo sentiamo quei pochi che vanno a messa sentono gloria dice boh l'abbiamo imparato a memoria e pensa dopo le grandi potenze di questo pianeta oggi nel 2023 cristiano vivono di gloria gli americani campano di gloria gli iraniani i cinesi vorrebbero i russi campano solo di gloria ma che vuol dire nel concreto? cioè da momento che l'individuo non è al centro dello schema sebbene lo è ad esempio negli Stati Uniti ma sono una società collettivistica cioè hanno un'idea estremamente omogenea di sé gli americani ma adesso li lasciamo da parte i popoli imperiali hanno la gloria nella testa nel momento in cui dicono prendiamo gli iraniani non abbiamo libertà se non pochissima condizioni economiche pessime peraltro aggravate dall'embargo che l'Occidente applica all'Iran perché l'Iran è potenza antagonista per eccellenza che adesso persegue la bomba atomica quindi l'odio per l'Occidente monta in Iran moriamo di fame e per colpa dell'Occidente che cosa vogliono? vogliono stare nei libri di storia punto cioè vogliono non vivere bene vogliono che i posteri si ricordino del loro tempo passato qui su questa terra come grande civiltà pensate una cosa del genere è qua altro che ricovero in un osocomio psichiatrico cioè che però è moneta sonante di tutte le grandi potenze anche i russi perché i russi non vengono piegati dalle sanzioni esattamente come gli iraniani perché non vivono di economia ha voglia ammettere le sanzioni perché nella loro testa il fatto che l'Occidente è cattivo imponga loro delle sanzioni è motivo di orgoglio e i russi in gran parte disprezzano Putin perché è un cialtrone perché è un falso perché si è arricchito tremendamente è diventato un miliardario ha le ville sparse non solo a soci perché formalmente sta con la moglie ma c'è un amante da cui ha avuto dei figli e non l'ha nemmeno mai detto i motivi per disprezzarli in Russia sono moltissimi gli riconoscono soltanto una cosa è il baluardo antioccidentale nella propaganda nella sua finzione però i russi ci vogliono credere perché nella loro idea l'Occidente è il nemico e loro sono una civiltà a parte gli iraniani uguali anche i giovanissimi è questo che a noi sfugge anche i giovanissimi che infatti fanno fatica ad immaginare ad esempio i kurdi sul loro stesso livello i giovanissimi sono razzisti anche i giovani perché le popolazioni imperiali sono razziste perché sono state istruite ad avere un ceppo dominante e gli altri sotto e lo fanno in modo paternalistico cioè i popoli imperiali nei confronti dei popoli sottomessi hanno un tono paternalistico non dobbiamo immaginarli tu sei un pessimo io ti comando no no io ti voglio bene per questo ti comando ma ci credono sul serio se noi prendiamo il rapporto che c'è tra i persiani e gli azeri è questo con i kurdi no i kurdi li vedono più come traditori ma con gli azeri hanno questo rapporto i persiani ce l'avano anche con gli armeni che sono cristiani ovviamente e hanno avuto spesso armeni anche nella classe dirigente storicamente in Iran e agli armeni ad esempio è lasciato un seggio nel Parlamento iraniano per la legge perché sono talmente pochi così i russi il rapporto tra i russi e gli ucraini è molto simile cioè per i russi gli ucraini sono il parente povero che non può andare nel mondo da solo che deve essere dominato è nato per essere dominato dai russi nella loro testa non è che riconoscono le legittime aspirazioni degli ucraini dicono no decidiamo noi per voi perché da sempre decidiamo noi per voi e lo fanno credendoci al punto che in popolazioni come queste la questione diventa sentimentale altra cosa che noi non riusciamo a comprendere quando gli ucraini legittimamente non ne possono più perché stare sotto i russi è impegnativo ma poi non avere libertà è impegnativo proprio per tutti figurarsi con un popolo imperiale come i russi e cercano altrove e quindi si rivolgono all'occidente in cerca d'aiuto come fanno in questa fase storica giustamente lo fanno gli ucraini i russi ci rimangono male davvero cioè non è finzione nella loro testa imperiale dunque patologica come tutti gli imperi ci rimangono male dicono ma come abbiamo sempre mangiato insieme comandavamo noi beh cioè ma quello è scontato noi comandiamo e adesso voi andate dal nostro nemico ecco gli iraniani ragionano così esattamente come i russi e anche i turchi ragionano così e una volta anche gli europei ragionavano così così ragionavano i francesi così ragionavano gli inglesi adesso sono postorici ma non è la serata per parlarne però quando noi e chiudo quando noi guardiamo una rivolta come quella iraniana che sta ancora lì perché la maggioranza della popolazione sebbene non ama per niente questo regime dice chi mi garantisce che il prossimo non sarà un fantoccio dell'occidente allora mi tengo questo così ragiona la popolazione profonda dell'iran ed è per questo che stanno ancora lì quando noi vediamo una rivolta da qua e immaginiamo di vedere in essa una sostituzione del loro modo di vivere con il nostro perché tutto sommato nel nostro senso teleologico non teologico teleologico è il fine ultimo della storia la storia va verso di noi è chiaro che poi scambiamo la realtà per il nostro desiderio e poi battiamo i piedi e ci rimaniamo male ma com'è possibile e la colpa è sempre della repressione che c'è ed è durissima è certo quante persone sono state uccise ingiustamente detenute in Iran in questi mesi non finiamo neanche di raccontarle e qui questo regime sia impresentabile eccetera eccetera eppure sta ancora lì un consenso per quanto doloroso ce l'ha ed è il consenso che scaturisce dalla idea profondissima e imperiale che hanno gli iraniani di sé è come se fossero sempre davanti a questo bivio qua un regime migliore nel senso più libertario più rispettoso più civile no? o una vita diversa nella loro testa cioè indimenticabile in senso storico non individualmente abbiamo detto gli individui sono meno importanti della collettività scelgono sempre la seconda cioè tra una migliore condizione di vita ma meno rilevante a livello di potenza una potenza più grande con pessime condizioni di vita scelgono sempre quest'altra per noi impensabile incredibile eppure ragionano così ed è lo stesso motivo perché ad esempio gli americani di dentro cioè il cuore degli stati gli americani di carico the heartland la terra a cuore cioè il centro noi vediamo le serie televisive immaginiamo che gli stati uniti siano tutto sommato New York e California quindi una specie di enorme lussemburgo che sì sono un po' matti ogni tanto si sparano per le strade però ma è che c'è grande differenza con noi sono europei europei trapiantati negli stati uniti ma quindi siamo un po' lì però se andiamo nell'America profonda cioè quella lontana dalle coste vediamo persone che vivono con il fucile alla caviglia che se lo trascinano per strada ma da dove diavolo vengono infatti diciamo ma perché gli americani si sparano per strada perché sono matti sono anche matti ma nella loro follia pensano che mantenere una società in questo modo sia necessario per le loro imprese all'estero cioè i americani fanno la guerra da sempre per questo hanno questo atteggiamento folle patologico per le armi inevitabilmente patologico ecco se addirittura un paese occidentale profondamente occidentale come gli stati uniti d'america a categorie di questo tipo figurarsi un paese antioccidentale per eccellenza come l'iran o come la russia e allora che cosa può succedere alla rivoluzione che avevo detto dove essere l'ultimo punto che tocco anzitutto 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 perché nessuno lo sa quindi non c'è moltissimo da dire ad oggi visto che siamo ad un anno quasi da un tristissimo anniversario il regime non è sul punto di crollare per niente ad oggi che mantiene quanto ho detto fino adesso cioè mantiene nella sua propaganda nella sua narrazione una profonda idea imperiale panislamica guida universalistica cioè l'Iran al centro del mondo è antioccidentale e questo gli iraniani profondi glielo riconoscono e lo considerano fondamentale quindi vuol dire che questo regime sarà per sempre no quelli sono soltanto i diamanti quindi neanche questo regime sarà per sempre ma quando finirà questo regime quando e chissà gli iraniani riusciranno a distillare un regime che sia diverso nella sua narrazione perseguendo gli stessi obiettivi cioè comunque imperiale comunque antioccidentale ma con un'altra narrazione allora lo cambieranno oppure se questo regime si facesse umiliare all'estero perdesse gravemente una guerra contro un paese occidentale si piegasse al diktat come spesso lo interpretano americano allora questo regime rischierebbe moltissimo troppo talmente tanto da non volerlo vedere per gli ayatollah che infatti ci stanno molto attenti oppure ultimissima opzione che davvero questa non è alle viste se la popolazione iraniana diventasse in un colpo anziana quindi molto anziana e decidesse di vivere di altro non più potenza non più violenza ma qualità della vita condizioni economiche diritti e allora questo regime non sarebbe più in sincrono con la popolazione diventerebbe inaccettabile può succedere? sì niente niente si può escludere in questo senso dobbiamo sempre calcolare che questo tipo di regimi che essenzialmente hanno davanti queste opzioni quindi un regime che li sostituisce con la medesima narrazione ma con un atteggiamento diverso oppure crolla perché si fa umiliare all'estero oppure la popolazione cambia che l'elemento è più difficile le tre opzioni che vi ho dato la seconda di queste opzioni è quella più possibile cioè che venga sostituito perché all'estero si è fatto umiliare è successo allo Shah è successo ancora prima ai caggiari la Russia è zeppa di questo tipo di avvenimenti la prima rivoluzione russa quella che avviene nel 1905 è quella di Fantozzi quando c'è l'ammutinamento della Pationkin nel 1905 della corrazzata Pationkin quella di Fantozzi perché avviene? perché nel 1904 nel 1905 la Russia viene umiliata e distrutta dal Giappone perde la più grave guerra della sua storia come umiliazione ancora oggi se voi chiedete ad un russo qual è stata la più grande umiliazione della vostra storia la sconfitta con il Giappone a Tsushima che è un'isoletta davanti alla penisola coreana quando la flotta del malbattico russo viene disintegrata da quella giapponese e i giapponesi non sono bianchi questo per un popolo razzista come quello russo è inaccettabile i russi fanno per la prima volta la rivoluzione nascono i soviet i soviet non nascono durante la rivoluzione di ottobre nascono nel 5 Lenin che beato lui stava a Ginevra scrive che il regime ezzarista se ne deve andare perché si fa umiliare all'estero Lenin aveva dentro di sé tutte le origini del mondo ma era profondamente russo questa rivoluzione non si compie per un soffio sebbene nascono i soviet si compirà quando durante la prima guerra mondiale quando la russia viene sconfitta dagli imperi centrali cioè dai tedeschi ed è costretta a firmare la pace a capestro di Brest-Litovsk lì i russi non ne possono più e fanno la rivoluzione e si prendono che cosa? il comunismo che è ideologia occidentale per eccellenza pensata da un filosofo profondamente occidentale come Karl Marx una volta si chiamava Carlo Marx quando si italianizzavano i nomi nelle vie dei comuni o le giunte di sinistra c'era sempre via Carlo Marx in Italia Karl Marx era un filosofo di Treveri Treveri la città romana per eccellenza della Germania no? siamo nella Germania che più occidentale non esista quindi i russi prendono una ideologia occidentale che odiano perché la prendono? perché dicono vedi c'è l'ateismo dentro siccome noi siamo divisi al nostro interno da molte religioni l'ateismo le azzera il nostro imperio è più solido e non solo siccome non abbiamo mai avuto una missione universalistica infatti Comini glielo faceva notare nella famosa lettera i russi che dicono la lotta di classe in un paese che non ce l'aveva nemmeno il proletariato industriale se non minuscolo può essere utile in tutto il pianeta allora noi siamo al centro del mondo ma queste idee che attecchiscono poi prese in occidente come prese davvero sul serio come se i russi fossero davvero socialisti improvvisamente ma questo lo lasciamo da parte queste si inseriscono in una qualità imperiale della Russia che c'entra tutto questo gli iraniani sono quasi identici quindi se abbiamo un precedente davanti come quello russo l'opzione più grande per una rivolta in Iran è questa se un regime si fa umiliare all'estero allora tutto è possibile altrimenti può essere rovesciato da un regime questa forse non ha bellissima notizia simile con una narrazione leggermente diversa ma simile con questo concludo anche perché sono le 22 e 31 la complessità iraniana potrebbe portarci fino all'alba ma fortunatamente per voi l'alba la vedremo mi auguro dormienti grazie grazie iscriviti al canale e clicca la campanellina per non perdere neanche un video Rinascimento Culturale ti ringrazia